Un'unica occasione, quella buona, hai fatto gol. Volevo chiederti che periodo è stato questo per te, perché abbiamo saputo che ha avuto dei problemi. Sei tornato a disposizione, hai giocato per la parte della partita, hai giocato tutta la partita. Gol, terzo gol per te. Guarda, pensavo che infatti non ce la facevo per tutta la partita, invece l'adrenalina ha fatto sì che... ha fatto già tutta la partita. È stato un periodo molto difficile, soprattutto per me il cambio d'allenatore, però il nucleo di questa squadra è molto forte, siamo rimasti uniti fino all'ultimo sempre e sono molto contento di tutti della squadra. Lorenzo, hai dovuto vedertela con un terzino di grande esperienza che ti ha affolto subito, con una perdita e sballata nel primo tempo, però quello che dicevamo che f***o è il buon cronaca, che siccome la giornata ce l'hai, magari bisogna cercare di andare di più attivo, perché questo è una qualità davanti che c'è. Sì, è un avversario molto difficile, molto esperienza, mi aspettavano lì e... Cioè loro sono una squadra molto unita, anche loro. Ho fatto molte difficoltà, però ecco, ho cercato di andare sempre, di puntare l'aria, andare a calciare e poi è successo quello che è successo, per fortuna. Lorenzo, stiamo prossima, ancora al Tomei, arriva il tempo di cosa ti senti di dire sulla partita e poi un invito alla Torso. Sicuramente dopo una partita del genere c'è più entusiasmo, più serenità da parte di tutti e sicuramente andremo per vincere la partita perché siamo ancora alla cerca della vittoria, della prima vittoria in casa e questo qua, il Termoli è grande squadra, quindi noi ce la metteremo sempre tutta, come sempre, per la piazza e tutti quanti.